non c'è nessuna cultura dell'umanità il mio zio ha fatto terminare a Firenze nel 15 settembre e trovare la stessa il mio zio ha fatto terminare a Firenze nel 15 settembre il mio zio ha fatto terminare a Firenze nel 15 settembre il mio zio ha fatto terminare a Firenze nel 15 settembre lì dovresti accedere alla Clean Room è un ambiente controllato pieno di rilevatori quindi cerca di non lasciare impronte che c'è nella Clean Room? per il chip che hai serve una motherboard se ho letto bene ce ne serve una come quelle che si trovano lì puoi comprare del vino? ma porca... ho una sete non dovrebbero esserci come va? mai visto niente di sedia? eh... 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 sì, comunque... beh, signora, la pazienza sì, giusto lo spazio è la nostra frontiera c'è proprio oh, baby! non eccitarti troppo, Marcus quel posto è tappezzato di raggi laser e tizi armati lo spazio è solo Niente da segnalare. Sto svolgendo gli obblighi di routine. Ora il disco sta diventando un ingido. Sto ingegno, sto metà in un'altra legazione. Ora ci vengono. Ma non lo proviamo, non lo proviamo. Ora il disco sta diventando un ingido. Ma che guarda, come il mio occhio si sta assicurando. Ora ci vengono. Questa stella è un problema. Si vuoi, dal momento, svegliamo. Sto e mi sono fatta. Che si svegliamo. E' un problema. Vibe una pelletta. Chu. Questa stella è un problema. Allora. Leconda. Sto. Ciò. Diacko. La cosa può fare. Stasvolgendo gli ompli di ruti? Oh no. Stasvolgendo gli ompli. Stasvolgendo gli ompli. I miei sistemi funzionano perfettamente. Inizializzazione dopo festa. Sono proprio come muovermi. Stasvolgendo gli ompli. Stasvolgendo gli ompli. Stasvolgendo gli ompli. Vieni Vieni Arrenditi Vieni 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 No! Hey! Farte! No! Invio le coordinate su 1033. Fornire lo stato. Sì, ho sentito che tutti i nostri razzi contengono un messaggio dalla Terra. Tipo il disco in oro che hanno caricato a bordo della navicella Voyager. Una cosa così, ma nessuno sa quale sia il contenuto del messaggio. No, io non l'ho visto. Ma conoscendoli, come minimo, sarà una dichiarazione di guerra interplanetaria. Scommetto che gli alieni si guardano... Scusa, amico. Qualcuno deve sporcarsi le mani. Sarai tu. Come le nostre. Base a pattuglia. Fate attenzione. Possibili bersagli dalle vostre parti. Scusa, amico. Scusa, amico. Scusa, amico. Ho finito i colpi, ricarico! Da quella... Ineropriamo! Ineropriamo! Ben fatto! Vediamo, dove hanno ficcato quelle motherboard? Calma, ci sono! Bene, amico! Ora metti il mio magico chip in quel razzo e... Ding! I popcorn sono pronti! Il chip non rimane attaccato alla scheda madre! Cazzo, se solo avessimo qualcuno lì che sa usare le mani! Beh, touche! Sai, mio papà mi portò al museo aereo-spaziale quando avevo, non so, dieci anni! Ma non è niente in confronto a questo! Razzi e dinosauri, amico! Non si cresce mai, eh? Agente a terra! Aspetta! Inizia una ricerca! Sparpag... Investi! La ricerca! No, 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 no. Oh, merda! Oh, merda! Oh, merda! Oh, merda!